Dicevamo in apertura che in realtà in montagna noi stiamo parlandone come se ci fosse soltanto il cosiddetto appunto sci alpino ma in verità ci si può andare e si possono anche fare tante altre cose anche perché onestamente magari gli imprenditori non saranno tanto d'accordo su questo punto di vista se c'è un momento in cui andare a sciare è una rottura di coglioni è proprio a capodanno perché comunque c'è normalmente, c'è veramente così tanta gente che chi cazzo c'ha voglia di fare le cose? naturalmente gli operatori del settore non saranno d'accordo però gli operatori del settore quando si spegne tutto sono i primi che ti dicono ma se devi venire a sciare io sinceramente il Natale non te lo consiglio però insomma e allora c'è qualcuno che magari ci può dare qualche piccolo suggerimento buongiorno Luigi sì buongiorno Dino buongiorno benissimo grazie San Martino di Castrozza giusto? esatto ok allora tu insieme con i tuoi amici, con un gruppo di appassionati di montagna avete fondato un sito che si chiama Primiero Hiking si legge così giusto? esatto Primiero Hiking Primiero come la valle di Primiero esatto e hiking come la parola inglese h-i-k-i-n-g punto com esatto e che cosa fa questo sito? che tipo di consigli dà? ma allora noi abbiamo creato questo sito per per offrire qualcosa di alternativo allo sci che visto che va molto di moda quest'anno l'attività outdoor e quindi volevamo cioè vogliamo proporre una serie di attività che esulano da semplicemente dallo sci dallo sci dallo sci escursionismo vuol dire hiking giusto? in realtà tutto quello che è la camminata in montagna esatto faccio l'uomo della strada io sono un grande appassionato di montagna l'ho scoperta tardi della sua versione estiva e quasi quasi d'estate mi piace di più che d'inverno però d'estate viene facile fare le escursioni anzi scappi dal caldo e vai in un posto dove è sempre estate ma la temperatura è più fresca come si fanno le passeggiate le escursioni quando ci sono non so temperature rigide la foresta è piena di neve nella quale fai fatica ad avanzare ci sono due opportunità quella un po' più facile che sono le cosiddette racchette da neve ciaspole quindi sono degli strumenti che si attaccano ai piedi agli scarponi e ti permettono di galleggiare sulla neve e quello ti permette comunque di camminare anche in mezzo alla neve fresca in mezzo ai boschi nel silenzio sempre Luigi naturalmente con chi conosce il territorio con una guida voi fate questo immagino insomma no non offriamo un servizio di guidi noi proponiamo degli itinerari con delle foto descrizioni esatto ci sono dei sentieri non avventuratevi dove non sapete perché quello è un campionato duro i sentieri vengono sempre presentati con il coefficiente di difficoltà esatto è già prima se è il caso di farlo esattamente e la seconda sci alpinismo la seconda è quella che avete citato prima che ora sta spopolando è lo sci alpinismo fantastico quindi significa avere un paio di sci con diciamo la possibilità di sganciare il tallone dello scarpone in modo da fare il passo in salita vengono applicate delle pelli di foca che sono diciamo delle strisce sintetiche per poi andare in salita arrivati in salita si goda del bellissimo panorama si toglie la pelle ci si cambia perché si va con lo zaino su ci si cambia si toglie questa cosa plastica si dice pelle di foca ma non è pelle è una roba plastica con dei peli sotto si toglie zaino metti la giaccavento anzi indossi la giaccavento che avevi nello zaino e scendi giù stando un po' attento perché Luigi gli sci sono molto leggeri quelli lì giusto? sì esatto poi ce ne sono di varie tipologie leggeri più larghi più pesanti comunque sempre massima attenzione ed è meraviglioso io lo faccio sempre è stupendo diciamo che è una cosa fantastica da fare in inverno quindi è una cosa che piacerebbe molto a Linus no ti dico di più se ne è innamorato anche Aldo Rocchi che è tutto dire c'è l'uomo dell'Iron Man negli ultimi inverni appena può si mette le pelle di foca proprio da maratonetta una roba bellissima sudi come un pazzo bellissimo bello fantastico allora primiero hiking se volete trovare qualche piccola indicazione Luigi grazie buona giornata se posso consigliare i canali social sempre primiero hiking su facebook su instagram perfetto grazie ancora un abbraccio per aver violentato la tua timidezza si sentiva era proprio dio mio come faccio dj chiama italia grazie a tutti